Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video adesso vi spiego come risolvere un problema che per me ogni volta è fastidiosissimo se come me avete sottoscritto per errore iRacing su Steam e ogni volta che c'è un aggiornamento vi dice contenuto bloccato come qua vi do la soluzione non dovrebbe essere una soluzione normale così una situazione normale così però purtroppo è così e quindi adesso vi do la soluzione molto semplicemente che cosa dovete fare quando vedete contenuto bloccato come in questo caso qua non fate nulla avviate iRacing quando avviate iRacing avvierà una serie di servizi che servono appunto per il funzionamento il corretto funzionamento di iRacing tra cui anche l'anti-cheater e in particolare c'è un servizio che blocca il contenuto di Steam è che si chiama iRacing Help Service ecco quel bastardo è quello che vi blocca il contenuto su Steam quindi bisogna andare sul servizio cliccare tasto destro termine attività a questo punto fate riprova il download se vi va male vi ricaricherà il controllo dei 100 giga a volte vi riscarica i 100 giga mamma mia me l'ha fatta a me una volta oppure ve lo sblocca direttamente in ogni caso che lo controllo lo riscarica ve lo sblocca questa è l'unica soluzione che ho trovato quindi nella speranza di aver fatto un favore a qualcuno di voi che si è trovato nella mia stessa situazione vi invito a lasciare un commento se ci sono altre soluzioni che non ho trovato a lasciare un pollice in su se questa soluzione vi è piaciuta iscrivetevi al canale da Fabrice è tutto un abbraccio ciao